Per uccidere Giuseppe Di Giacomo i killer hanno utilizzato una pistola a tamburo, un'arma di grosso calibro, una P38 o una 357 Magnum, da cui sono partiti quattro colpi che hanno raggiunto la vittima. L'ultimo, il colpo di grazia alla nuca, sparato quando già Di Giacomo era fuori dalla sua smart e tentava una disperata fuga per sottrarsi alla raffica di proiettili. Come dire, una specie di firma, anche perché proprio questo tipo di pistola è il più tradizionalmente usato negli agguati di mafia. Un elemento in più, quello emerso dai rilievi della scientifica, è che, se ancora ve ne fosse bisogno, conferma la matrice mafiosa e le modalità dell'agguato di due giorni fa alla Zisa. Del resto, gli investigatori e i magistrati, già nelle prime ore dopo la sparatoria, non hanno fatto mistero sull'importanza e le ripercussioni che questo omicidio possa avere sugli attuali assetti dei clan a Palermo, soprattutto quelli del mandamento di Porta Nuova, che dopo la raffica di arresti che ne ha decapitato i vertici negli ultimi mesi, si è trovato a fare i conti con un vuoto di potere, diventando automaticamente terra di conquista, con tentativi di espansione ma anche tensioni interne, tutte da verificare. In più, quella di Di Giacomo è stata un'esecuzione eclatante, commessa in pieno giorno, davanti a testimonia e nonostante nell'auto con la vittima ci fosse anche il nipote, poco più che un bambino, e che il procuratore aggiunto di Palermo a Gueccia ha definito miracolato. Ecco perché questo omicidio viene letto dagli investigatori come un segnale da tenere in grande considerazione. Tra gli arresti e le scarcerazioni di personaggi di spicco, il mandamento sarebbe dunque in piena fibrillazione. Non si può escludere il rischio di altri episodi simili, ha detto ancora Guecci, in un momento di riassetto possono succedere questi omicidi, manifestano anche momenti di insofferenza e volontà di controllo del territorio. Di Giacomo, arrestato nel 2008 nell'operazione Perseu, è fratello di un esponente di spicco del mandamento Giovanni, uomo di Pippo Calò, coinvolto in omicidi eccellenti, attualmente in carcere dove sta scontando l'ergastolo.